...selezza di sistemi integrali, in società del gruppo di meccanica. Sapete che il meccanica è un inizio gruppo di specialità di amico, il secondo, in Italia, l'automia, è sedibile, in quanto è stato stato un gruppo, sono tutti, sicuramente, e noi siamo a un inizio di sistemi integrali. Spiegherò il contesto in cui lavoriamo. Spiegherò i continui di presentazione da una presentazione iniziale, facciamo capire le esigenze, come abbiamo partiti, spostomando il servizio dell'automia, parte dall'audizione del film, che è stato un inizio anche a strada, la sua presentazione, e poi faremo vedere come abbiamo l'astomizzato con l'Aeronautica, sia per il sviluppo del software, come ci occupiamo, che per la comunicazione. Poi faremo vedere quali sono i nostri sviluppi che abbiamo in festa, e poi faremo le confusioni. Quindi, in quella roba, ci siamo, cosa dicevo prima, quindi siamo in realtà nel gruppo di meccanica, vediamo da un recentissimo spinopo di meccanica fatto da RSA data verso le serie di sistemi integrali. Quindi, diciamo, con un piccolo scienziatore, siamo nella sessione RSA data, ma una società arrivata fino alla 2016. Io parlo, facciamo così, uno è più grande, un personaggio, so che la mia azienda, di fatto, ma lo conosco. È strano così, ma è così, nel senso che, essendo questa spiegazione partita dal pubblico, e ovviamente, in queste istituzioni, siamo ancora alla base di uscire, delle istituzioni, delle sistemi informativi, delle aziende, siamo veramente in un'ora di rinforzo più, non sappiamo veramente di chi interessa c'è. Però, in realtà, abbiamo visto il nostro consolidato, che va avanti. I gatti continuano, in fortuna, anche a recente cose, e quindi, gatti continuiamo a farlo. Nello specifico, io sono responsabile, sono un programmatico, sono responsabile per un gruppo di commesse del settore della beneficiazione delle missioni, diciamo, utilizzare un sistema di supporto di missioni, che significa, nell'ambito di me, sostanzialmente, se immaginate, come potete capire, un pilota che va in volo, un aereo, che va ad andare in volo, deve, in un modo, sempre entrare i comandi, e quindi, via, rispondiamo l'azzo. Perché fa, non esiste, in qualche modo, che la giusta prende la decisione, se si può dire, l'inchezione di una volta, di andare a terminare un'azzo, sostanzialmente, cosa che, a volte, non si sta in mano, non si sta in senso, non si sta in senso, non si sta in senso, che ci può fare la creazione. Quindi, in questi sistemi, a questo, tra quartiere settore dei comandi, e il pilota che non ha, sono stati da la piota, che ha i comandi, e, parloci, questi comandi, sono stati dei temi, del, o dei record cartace, ma soprattutto dei servizi elettronici, che va a raccontare l'autopiota e le lingue che fa i migliori. a livello di post-ball-off, fa la stessa cosa nel vento, cioè, che cosa fa? Il pilota fa del rischio, che è quello che ha fatto, e quindi, va a quei dati nel vento di rischiare, a vedere che cosa ha fatto, è la testa, in un'area di gennaio, per un'area di rapporto. Ecco, il gusto, ripeto, per quanto mi riguarda a puntualizzare il mondo sul contesto. Siamo una, se stiamo libera, diciamo, di 4.000 persone, diciamo, un gruppo di 50 persone. Di questi 50, diciamo, di mica 40, la scuola o meno, hanno 6.000 persone da entspolare, per il lo stesso, se fosse scritto. Abbiamo 8 progetti, sono progetti che hanno, quindi, gli ideati sono nazionali, uticamente, però coinvolgono con diversi attori a livello mondiale del settore di Liglietta, quindi le bellissime aziende uguali al nostro, voi dovete vedere come tutte, il nostro programma di LDS, che lo chiamiamo, Reina e Voli, che è una delle abilità mondiale per tutti gli attori a livello mondiale. Quindi, noi abbiamo una necessità di strutturarci e di nascerne dipendenti, perché il nostro approccio è che interagiamo con le società che noi non facciamo delle recinte, perché ovviamente fanno delle cose complessissime a livello mondiale, quindi ci aspettano anche che, essendo il nostro sito con l'incolore, il nostro palio industriale è abbastanza complesso, lo facciamo da decremento in Italia, che non si porta a mano, quindi facciamo delle facce con l'incolore, che si occupano di alta forma, che sia un benigolo, che sia un armamento, noi lo portiamo in Italia e facciamo questi sistemi di consenso modenizzo, che si chiesse di alta forma. Partiamo quindi dall'esigenza. Quindi, la sicurezza iniziale è tanto, questo è il problema che condivisa tutti, no? Sistematizzare e efficientare il nostro approccio con il nostro software, che esistono tante prati, anche qui c'è anche spesso, ognuno su, ognuno su clienti, ognuno su clienti, ognuno su clienti, ognuno su clienti, ognuno su clienti. Immaginate anche che noi vediamo una struttura, che è ancora ad oggi, che sembra solo di fare il proprio cliente, adesso, non è una struttura modice, la struttura è un progetto, il mio responsabile è, la cliente è responsabile, per esempio, e non risponde a un cliente funzionamento a nessuno, se non a noi stessi, sul progetto. Pianificare l'attività, tracciare e solicitare gli atti fatti, dire alcuni testori, perché pensare che i processi, i processi, tutti quanti, in particolare, che durano anni, anni, in quanto le anni è una cosa normalissima, in quanto le anni è una cosa normalissima, in quanto le anni non succede, come utilizzare gli oggetti. Quindi, ricordatevi che ci sono stati tanti anni fa, è importante, perché spesso le persone cambiano, e un oggetto che iniziava, quindi era una persona diversa, dove si aveva dei responsabili, e gli erogati. Ovviamente, monitorare la qualità del processo cultivo è qualcosa che, ovviamente, è da pazzi, e soprattutto, mi ringrazio, a quello che ho detto prima, a portare le sue parti iniziali, perché qui facciamo un progetto, e facciamo un budget oltre di 100 milioni di euro, e quando uno sbaglia, la sua estime, che poi succeda che i costi, della vostra spedetta, sono posti iniziali, ma non pericolari. Un'altra esigenza, non c'era il fatto che anche noi, ci siamo occupati del seno armai, ne è tazzata, ma ovviamente, due anni fa, e gli erogati sono stati sottoposti, in cui sono stati iniziali, e tutti voi, i responsabili hanno prescritto, e stanno mettendo iniziali, e poi il processo, essendo stato fatto il sostenoso, è bloccato in qualche modo, forse li prenderanno in altri anni, e quindi ci stiamo occupando del seno armai. Per quanto ha detto niente, il fatto che i meccanici stanno pagando questa direzione è pieno che deve essere questa eccezione, questa autorizza. Quindi, ci aspettiamo, in qualche modo, una... di essere iniziali, di nuovo, sottoposti iniziali. L'altro discorso, dell'esigenza, è una cosa molto più inustizio. Allora, tutti quanti ci riscontriamo, no? col fatto che, beh, vengono stare le le mie, per esempio, per fare queste cose, insomma, per darci dato, per questo, per questo, per questo, per questo, per questo, per questo, poverazzo, che sta a fare la tasca, a fare la rapida, trova, nel senso, che non sta più, sotto occhio, quello che deve fare, e per perdere normalmente, il contesto, delle priorità, che si trattano. Quindi, noi dobbiamo costare una gestione, tecnica, così, appassionata, a un'utilizzo del preposito centralizzato, i cui principali vantaggi sono occhi, come vedete, c'è abitato l'informazione, una ricerca mobilitata, e, visibilità, io, come responsabile, ho la possibilità di andare a vedere, distante da distante, quello che succede sul progetto, nel momento che mi vado a, sostenere il contesto popolare, con la gestione dell'abilità, per il mondo, in esercizio. Quindi, ci siamo posti a questa esigenza, e, possiamo vedere, cercare sul mercato, un prodotto, questo, questo, adesso, di vista, conoscevamo già, il software, per i dati, ma, per i dati, degli individuori, in parte, che siamo interessati, a questo fatto, più o meno, e, abbiamo visto, che c'era questo prodotto popolare, che abbiamo messo, insomma, abbiamo fatto delle droghe, in qualche modo, e, e, facciamo arrivarsi un po' soddisfatti, e siamo partiti con questa sperimentazione, di vero, sperimentazione che, in azienda, riguarda soltanto dei progetti, in qualche modo, cioè, come i progetti di pilota, però, un individuo, non è un posto, questo tipo di approccio, in qualche modo. e, abbiamo usato, per un aspetto, principale, per gestire il ciclo, del gruppo software, e, per la comunicazione interna, a livello, e interna, a livello, e interna, a livello della collaborazione. Nel discorso, del gruppo software, nell'approccio, del gruppo software, bisogna concentrare, i suoi aspetti, che, di fatto, sono quelli che continuano, anche, ma, in modo di dirlo, diverso, sul modello di conversione continua, cioè, che cosa facciamo, quando facciamo il gruppo software, sull'aggressione, del codice sorgente, dei documenti, se sarebbero questi oggetti, e, in modo di dirlo, sull'aggressione, della configurazione. Quindi, andremo adesso, a vedere, essenzialmente, in maniera molto compiera, delle implementazioni, che abbiamo fatto, di volare, all'interno dei progetti, di cui, di cui, mi occupo. Mi farei, aiutare, in casa, che, è la persona, che più ha parlato, sinceramente, popolare, che ci potranno, anche voi, in Italia, per rispondere alle domande, che altre tecniche. Grazie. Grazie a tutti. Andiamo da fare iniziare, lavoro da circa 18 mesi, nel truppo di sistemi supportori, dove sono occupato, principalmente, nell'implementazione, della costruzzazione, la geimposizione di pomade, nel termine, di varie valli. Da dove si parte? In genere, ci sono così, le varie vittime pensate, quella principe, forse, quello del project manager. inizia costruendo la QPS del progetto. Adesso, indipendentemente da un'opera questione che ha fatto del livello Polo Oriente e del Faccio Oriente, si era comunque a definire una serie di volte che dice, che per noi è importantissimo rappresentarli e tracciarli. E come è come rappresentarli? Tramite un montaggio, un apposito chiamato World Breakdown Network. Che cosa fa un WPA? Ma, in buona sostanza, rappresenta un gruppo di attività. Fondamentalmente un gruppo di attività che conterra la sua volta, task, può contenere, spesso lo fa, requisiti, test case, le manco dei requisiti, eventuali progetti di report, talvolta delle cedici di questo, e così via. Diciamo che tutto quello che sta nel progetto rientra comunque in un WPA. La cosa interessante che abbiamo adottato è, per poter dare, così, per poter iniziare a raccogliere delle scheme quantitative sulla dimensione del progetto, abbiamo inserito dei tre campi che sono total initial estimate, total time estimate e total revenue estimate. Questi non fanno oltre che aggregare gli omani valori dei Volcania che andiamo ad attaccare sotto loro. In questo modo le informazioni, i valori, vengono popolati, vengono raggruppati dal porto in alto, quindi avremo, quindi, sul progetto, un costo totale. Il costo è espresso in termini di tempo, non di durata. Attenzione. Altra cosa interessante, poi, sono le abbiamo inserito, abbiamo customizzato, inserendo riferimenti alla WPS, quindi il codice, la commessa sulla quale ogni singolo logica che può essere caricato, e così via. Scendendo nella gerarchia, abbiamo poi che l'elemento maturale che va attaccato con le WPA, come figlio, del PASC. Per il PASC abbiamo voluto mantenere, volutamente, la struttura del workflow abbastanza semplice. Questo perché abbiamo trovato anche noi un naturale resistenza al cambiamento. Che cosa significa? Che introdurre il PASC, proporre tre, quattro, cinque, come minimo, tipi di ugualcare, ciascuno con il suo workflow, magari anche dal fatto che appena cantata, quindi con tutti gli stati, vari passaggi, radioizzazioni, era l'inizio abbastanza risultante, per le varie più interessate, sia applicabili che sviluppatori. Quindi abbiamo fatto un piccolo passo indietro, abbiamo semplificato la struttura, che sarà sempre questa, per la maggior parte dei work guidance di tipo lavorativo, poi vediamo quali sono. Adottando i quattro stati, è solo nel secondo, cioè nel work in progress, andiamo, da dove è opportuno specializzare, inserendo gli stati più, siamo così più puntuali, per i quali è utile distinguere tra un task, tra un PE, o tra un requisito, e così via. Questo ha certificato notevolmente la nozione. Che cos'altro è, c'è stato utile, fondamentale, per rappresentare i task? Sicuramente le dipendenze, cioè il fatto di poter definire degli interiore, questa è la prima roba, e in che maniera assa, o rigida. Questo forse è uno dei punti di forza che abbiamo trovato a comprare. Considerando che ci sono fondamentalmente le tipologie di link, di tipo relazioni di chico-patre-fittino, relazioni di dipendenza, che quindi in qualche modo vincolano l'andamento temporale dell'attività, e poi l'altro, che è un'altra, che è un'altra, che sono le ultime, ci sono le di tipo informativo, cioè, semplicemente attaccando dei led, dei task, se vogliamo, sui link, riusciamo a tracciare anche informazioni che tipicamente resterebbero fuori. Perché un task e un altro task in un particolare modo lo implementa, lo raffina, lo disupporto a... e così via. Dal punto di vista poi più formale, non siamo usciti molto fuori dalla definizione di task che è già presentata per default in Polari, con Polari, andava abbastanza bene. L'unica variabile interessante quanto aggiunta è la percentuale di completamento, che è un valore che semplicemente raccoglie una stima per quanto sia soggettiva che la persona l'assimili o gli assimili che hanno in carico il task cercano di tenere aggiornata. Scorre, diciamo così, è indipendente dal tempo speso e dal tempo stimato o della presente, raccorrerà. Cioè, riusciamo comunque a sapere se siamo all'80-90%, quindi grossomato quanto ancora dobbiamo investirci sopra. A questo punto avere definito così task si porta a poter produrre, guardando un po' più il lato documentale, il lato più di cruscotto, di polare, vedendo un semplice esempio, la lista dei task da svolgere o completare. Anche qui ci riportiamo alle quattro fasi del WordPro che abbiamo visto precedentemente. Cioè, per il singolo progetto o ancora più in dettaglio, per la singola risorsa, per il singolo programmatore, può sapere che cosa ha fatto. Ovviamente saprà che cosa ha fatto nel passato presente, ma anche quali sono le prossime possibilità riesce ad avere una visione un po' più di meglio periodo di quello che è il progetto. E se pensiamo a risorse coinvolte su più progetti, questo può essere un pari o aiuto. Un altro work item di interesse è rappresentato dal change request. Queste, in buona sostanza, sono le richieste che provengono sia internamente, quando pensiamo che c'è un miglior amicito che poterlo salvare sul progetto, o anche come spesso avviene per gli clienti. Che cosa dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo identificarlo e gestirlo. Dobbiamo comunque dare una risposta, dobbiamo poterla aggregare, poterla analizzare, capire quanto impatto possono avere sul progetto e in che punto. Quindi eventualmente anche quali figure, quali tipo di risorse può involgere. E questo è inevitabilmente poi porta a poter aggiustare i vostri tempi e rispondere di conseguenza. Quindi che cosa facciamo? Beh, anzitutto documentiamo la richiesta in sé e chi la fa. I risultati, se pur sommari, di un'analisi di impatto, qui c'è stato utile anche avere comunque la possibilità di attaccare un momento, ad esempio, un work più esteso dove c'è un'analisi più puntuale. E poi infine la divisione del control board e quindi il ciclo di feedback si richiude e la decisione è tutta la parte del cliente ma comunque di chi ha generato la change request. Altro elemento è il test case. Beh, grazie al test case diciamo che sono specifici per baseline e servono a coprire comunque i requisiti. Come questa orientazione principale beh, diciamo che abbiamo sicuramente un riferimento al contesto e un reperto. Cioè così dove riusciamo a contestualizzare a collocare meglio un test case nell'ambito di chi lo deve fare o chi l'ha fatto o chi l'ha proposto o come è dal lato ovvio, così, risorse e dal lato codice il livello di componente classe riusciamo anche qui a dire esattamente di che cosa stiamo parlando anche di funzionalità in generale. Ovviamente abbiamo anche traccia dell'ultimo risultato ottenuto. Infine che cosa genera un test case? quando va male genera un product report e questi quindi possono essere sia in termini cioè generati appunto da un gruppo di testing sia talboard che che cosa rappresentiamo e documentiamo qui? Beh, buona sostanza è un problema in serie quindi la parte di, diciamo così sender cioè chi ci ha dato il problema e poi e quindi qui vediamo anche utile un riferimento esterno ad un enti che spesso viene previsto da un qualche altro sistema esterno a polare in genere il proper report che per il cliente ha un'identificativo per lui stabilisce come possa essere utilizzare un peggio sistema o anche altri sistemi interni d'azienda noi dobbiamo comunque utilizzare questo per poterci collegare a non perdere riferimento oltre a questo teniamo anche traccia della parte in opportuna sede della parte di risposta abbiamo il proper report abbiamo capito quale è con questo chiudiamo a dire di bianco in qualche modo rispondere ok come lo risolviamo come lo attacchiamo e così via quindi riassumendo com'è attualmente una parte del nostro processo di sviluppo beh da un'altra abbiamo qualcosa che in genere ci c'entra del lavoro cioè vari indimenti della WPA requisiti message request e proper report questo ci porta a dover assegnare e svolgere le task e quindi a coinvolgere le varie risorse che a loro volta adotturano degli artefatti applicazioni documentazione eccetera ma soprattutto anche task case che poi vanno quindi a più deciso adesso abbiamo la parte più di sviluppo è stata descritta vediamo un po' la parte invece tra i miei la quale grazie a Polario gestiamo sia il po' di esorgente che la comunicazione beh sicuramente avere i repository quali Satopashion che è open source e praticamente di mercato è molto utile è un pull aperto e grazie ad esso riuscivamo già da prima a gestire ad avere un controllo di versione gestire il tempo il branch emerge fondamentali anche in fase di curazione di bug o di risoluzione di bug o di risoluzione oltre a fatto il dubbio è andato perché è molto storico si ha più paura di perdersi qualcosa per strada sta tutto lì diventa la fonte autoritativa se è scontato per il codice sorgente e per alcunità la sentono forse può essere un momento per la documentazione poteva essere un momento per la documentazione anche documentazione di progetto documentazione ausiliaria per gli vittatori adesso invece è stato tutto un altro aspetto con cui utilizziamo volare il codice relativo è la configuration di rendimento in pratica abbiamo definito un'altra serie di work item appositi questi sono molto più costituzionali quindi il workflow è veramente uscito più in misura grazie a quale gruppi apposti riescono a gestire tutto l'aspetto di configuration management questo viene fatto per ogni progetto quindi dobbiamo gestire ad esempio badalmente la pbs dobbiamo sapere di un'ami singola letteria che riceviamo dal sottocornitore che versione era quella della set associata quali test passavano quali nomi quali compremi quali richieste di cambiamento di apporto che abbiamo fatto noi verso questo sottocornitore adesso andiamo all'autocomunicazione se Polarium è inutile tanto per così la parte più di sviluppo sviluppo e gestione del progetto software è utile anche per la comunicazione sia interna che esterna con qui stessi qui mi rifaccio un po' al concetto di ci rifacciamo al concetto di information radio questo il letteratore mi ha presentato un qualcosa che deve essere facilmente accessibile facilmente aggiornabile deve essere intuitivo nell'anno di accesso e pertanto sarà visto queste condizioni neanche si sarà sempre aggiornato che è un po' l'opposto all'information refrigerante noi utilizziamo un frigorifero qualcosa che è chiuso sta lì abbiamo già le cose dove devono essere abbiamo già cosa che dobbiamo andare a prendere ed è quello che avveniva quando e tuttora avviene in altri gruppi quando bisogna accedere alla popolazione di progetto la serie sul server bisogna sapere si fa riferimento a quale designata la cartella che era stata descritta in una certa di mail e mandata tot giorno da lontana con l'autoratore e via grazie a questo concetto ben implementato l'autoratore riusciamo adesso ad avere scopi informativi più semplici più che di la fonte autoritodica delle informazioni è polare è inquire è qualcosa che sta lì dentro e comunque è perfesionale infatti appunto utilizziamo sia all'autoratore di progetto per avere un sommario sappiamo quali sono i prossimi eventi ad esempio accediamo velocemente alla lista delle task alle azioni da fare accediamo alla WDE e così via sia attraverso le modifiche automatiche qui mi riferisco all'enerico sostanza il sistema di modifiche di merico e la disposizione polare che se in un primo momento diciamo così spaventano un po' perché era fin troppo riduttante quindi è un po' preso un estato quasi adesso e anche con la versione 2010 visto che c'è stato qualche cambiamento siamo riusciti a cucire le situazioni per cui ho così il rapporto rumore rumore informazione utile comincia ad essere vantaggioso oltre a questo abbiamo anche costruito dei record appositi per le figure di livello un pochettino più alto come i program manager se è banale si è scontato nel wiki a livello di simbolo progetto avere e aggregare informazioni per la simbola risorsa o per il project manager lo è un po' meno per i livelli un po' più alti ora qui magari grazie anche all'accesso abbastanza della sparenza che è la disposizione polare anche a livello di repository salvo riusciamo ad estrarre i dati ad aggregarli e quindi dobbiamo realizzare anche alcuni dei tipi di estensione ad esempio possiamo sapere questo è un banalissimo esempio è una matrice di erogazione task o risorse task o gruppo di risorse possiamo estenderlo su base temporale possiamo dire su che periodo o quale periodo siamo interessati quanto è stato lavorato work records ok e su che tipo di work area solamente task lavorato t-task WPA o quello che sia abbiamo anche parlato di comunicazione verso l'esterno fin adesso abbiamo parlato di comunicazione interna per fare lavoro all'interno del gruppo adesso invece vediamo come tramite altri work item tracciamo e poniamo la comunicazione verso l'esterno in una sostanza sottopropitore clienti o partner quindi abbiamo introdotto altri tipi di work item che questa volta con la stessa natura invece hanno un run molto più puntuale da volte semplicemente a volte esistente stakeholder semplicemente non una granica dei vari stakeholder coinvolti nel progetto cosa utile però è la possibilità di legarli di legarli agli eventi e questo lo vediamo sopra in questo modo quando avremo un evento simile che si rivederà nel futuro siamo certi ad esempio di non individucarci nessuno abbiamo già fare i figure della stessa di coinvolta in un evento simile dove per evento intendo qualsiasi fatto dove c'è una comunicazione tra tutti gli stakeholder quindi può essere un meeting informale una conference call o anche semplicemente riportare un carteggio di mail all'evento poi lo utilizziamo anche per tenere con il sistema dei link attaccati azioni o richieste di supporto le azioni ritendiamo come semplici semplici attività da fare che emergono a seguito di review con vari documenti correzioni richieste di chiarimenti siamo a questo livello in attività non troppo dispendiose a livello di tempo che però comunque vanno tracciate spesso provengono da più parti quindi bisogna comunque dedicarle bisogna molto spesso aggregarle alcune action vengono scattate perché già risolte le action precedenti in ogni caso bisogna con me una risposta perché è un passaggio formale che l'ha fatto altra cosa importante sono le richieste di supporto sia quelle che facciamo noi verso il tempo quindi verso i sottopositori o partner sia quelle che altri possono fare verso noi c'è un problema sull'utilizzo di un componente di un chiarimento per uso di una libreria e così via questo portale è una risposta non stanza bene questa esigenza infatti cosa andiamo a mappare qui ma sostanzialmente la parte di richiesta quello che ci è richiesto nella parte la parte di risposta e infine l'obbvia decisione che viene questa anche queste le attacchiamo le ricolleghiamo sia diretti sia quando era necessario o per il bie elementi o per il bie o per il bie quindi anche questi contribuiscono poi a fare massima dei costi un altro esempio di estensione che abbiamo ritrovato di fare è sempre estremamente dati da un elemento fare dei plate per l'evinio dei midi in genere non si fa ad un evento quindi un mini informale ci si fa con una lista di azioni per un determinato contesto ad esempio per un determinato sottocomitore per un determinato contenente e si discutono quali sono state fatte quali ancora da fare e quali non è è utile poter andare a morire quanto ci ha fatto questo ci siamo fatti tranquillamente tramite colar in questa estensione noi già sappiamo il prossimo che questo dobbiamo discutere con un click e ce lo sappiamo comodissimo darei la parola al collega Maurizio questa parte di più o meno stiamo parlando lo stesso concetto anche questo scorso della comunicazione che noi abbiamo fatto riguarda oggi il sito molto sui prospetti cambia il modo di riuscire più a un po' di direttamente finale in generale come da un momento ma un momento è stato in tropolato uno non è diretti tra i dati per 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 i dati però c'è un altro che quello che si è detto sta in terzo in tropolato le azioni stanno separate che si compone di dimensioni che sono diversi di università quindi è una sorta di tempo e è un vero per l'ambiente uguale in qualche modo un'ottima possibilità di un'ottima suono ovviamente questo centro di vita è molto pratico per vedere molto perché anche l'architia non si ha forza disposizione per fare quindi questo non è che ci parliamo come noi vogliamo ristendere questa attività che si è dovr'azienda però sono dei punti che vogliamo affrontare e i punti sono in particolare due che riguardano quello che stiamo determinando sostanzialmente quindi mi fa piacere che siamo tutti sullo stesso sabato in qualche modo nel discorso delle schifre perché come diceva anche dire cazato non siamo che non un modo di dimostrare in qualche modo quello che facciamo fare un'altra migliore però abbiamo tutti il settore di certi di problemi infatti quando facciamo il system soft spesso nonostante i medici di cui abbiamo parlato lungamente non riusciamo comunque ad essere precisi in qualche modo e quindi bisogna dotare tutti strumenti più in tutto di risurre più in tutto di dati come fare risurre quindi stiamo ancora un passo prima quindi chiama di raccoglie e chiama di strumenti più dati sono basi di quali faremo telematico in qualche momento e poi il risulto della comunicare integrare il processo di gestione dei investiti e qui non parlo solo dei investiti ma chi è una tenda di ct come la nostra alla fine a me per quello che ho detto l'azienda dei dici sì il punto è come dire che a collegare un punto volare un po' il mondo di tecnologo di software in termini di modelli norme e costice in qualche modo dove noi iniziamo di merasofte commerciale e dove si pare per colare a un ambiente per fare negozio automatico e comunque si ha dato cose interessante interessante e produttivo e adesso il prossimo passo è lavorare sulla condizione delle lezioni due mondi e come dicevano sempre in soffì ma noi vogliamo sperimentare questo corso del basso perché noi in realtà priorità secondo me di questo periodo cercando di capire quanto è posso esplicare le lezioni io ne sono un tranquillo cioè vogliamo adesso lo parlo passo in qualche modo perché noi mondiamo ci partiamo e diciamo gli allenamenti domani più simili che domani nel senso che spesso facciamo cura con le mani in qualche modo mi sembra che abbiamo anche quella crema attenzione che fa la tossipativa che con il polare un po' e sia abbastanza basico in rispetto a che noi avremmo in qualche modo e quindi vogliamo comitiamo ad andare forse nel dettaglio ci siamo un po' meglio come abbiamo detto abbiamo i due mondi dal lato spazio dal lato polare le due inizze sostanzialmente diciamo che dentro il terpresario che è sostanzialmente il mancato che finisca a quel punto è frizzato quindi un anno si diventa le due nostre età e frizzato esiste e da lì riesce a fare profondo a quello di la c'è in qualche modo ma non riesce a che si si dobbina quindi è mai in un certo modo e quindi come dire ci proviscono una grossa e poi lo portano dentro il giotto affinzale le due viste le possiamo sostanzialmente sintetizzare come il visto in questo caso una vista ingegneria nel senso che il suo interparagio si lavora in un tecnico in un passaggio già il gestore tecnico un cavo progetto ha bisogno di qualcosa di più e quindi ha bisogno di un strumento quale può essere volare per il sito di ten di per creare quindi stiamo lavorando su questo potiamo lavorare su questo monitor che mi sa che mi è rinvito a voi in qualche modo e quindi per arrivare a un gestore completamente integrale il dubbio forte per chi vuole lavorare in CET è che cosa merita un monitor quindi stiamo trovando delle norme pensate se magari abbiamo un'idea che sappiamo che prova la loro di vostra in realtà arriviamo a delle confuzioni questo è l'ultima slide sostanzialmente per quanto ci riguarda condivido molto di quello che ho detto prima a noi non è sentato che sia così facile per la soluzione nel senso che è facile mantenere un effort considerevole però questo effort è assolutamente da sostenere nella nostra visione nel senso che nel momento in cui lo posso iniziare il studio le impremente nello stesso è andato a portare di parte tu che ti impongono in qualche maniera un modo di lavorare e tu non senza l'organizzazione a lavorare secondo te quale è possibile portare la vita a un successo poi in fondo lì io metto che io sono divita di un oggetto e si apprezzionava la possibilità del secondo parere sono amici e si chiede quindi da me questo è il plus rispetto all'incente e poi si apprezzo su gli oggetti gli anni tra di loro quello che abbiamo già detto un giorno diciamo questo è spero di essere stato nei tempi sì sì perfetto è il basso di cosa abbiamo fatto mentre vogliamo andare avanti quanto riguarda adesso l'obiettivo è cercare di parlare la mia azienda nuova e cercare di capire cosa fare grazie